Si riparte nel secondo tempo tra quelli del Vannella e del Football Club, sono in vantaggio per 2-0, a sorpresa un po' i gialli di Mirko Vannella, ma comunque un grandissimo primo tempo da parte degli uomini di Torino, caresto si gira, prova il tiro, viene emulato probabilmente dalla difesa dei gialli, ancora la ripartenza, sbagliato il pallone di Panico, che alimenta il nuovo reazione, partendo da Messe del Portiere, vicino Capitan Vannella, il pressing di finito. Ancora Persico, Persico, scambio con Carrieri, non si realizza il triangolo, sarà in messa laterale, se ne incarica di Donato, vicino per Finizio, Finizio estera l'annunimento di Malte, non serve, ancora Finizio, Finizio di nuovo, cerco lo scambio con Torino, Prova il tiro, Panico, viene Murato, ancora Finizio, lotta, c'è sicuramente un divario dal punto di vista fisico tra le due compagini, oltre al divario di età, ma comunque se la stanno cavando benissimo i giallatori in maglia blu, cerca un cambio gioco magri. Per Di Donato, Di Donato il tiro, la diversione, il calcio d'angolo di Capitan Mirko Vannella, tengono bene, nonostante lo svantaggio, i ragazzi di Peppe D'Angelo, calcio d'angolo affidato a Di Donato. Di Donato cerca dentro l'aviazione di Torino, c'è la ripartenza affidata a Carrieri, ma a Magri, una interdizione, c'è la scivolata, sarà calcio di punizione per il football club. Torino, vai a prendere il pallone. Poi abbiamo quest'ultima azione, prima di chiudere il nostro collegamento, Torino, punto di battuta, posiziona la barriera, volta il Mauriello. Torino, la tocca per Magri, il tiro, ribattuta, un rimpallo, serve il portiere sul punteggio di 2 a 0, chiediamo qui il nostro collegamento. Eccoci qua con i The Football Club, che quest'oggi hanno vinto una partita combattutissima e molto intensa contro quelli del Vannella, una partita anche piena di scintille. Raccontateci un po', parliamo con Torino che è stato il migliore. È stata una partita molto difficile, gli avversari erano bravi, però alla fine ci hanno messo un po' di grinta. Di Donato molto combattivo, siamo portati questi punti importanti a casa. Quanti gol per te oggi? Eh, un mare gol. Va bene comunque, allora diciamo, ci rivolgiamo a Di Donato per dire di stare un po' più calmo magari. E' una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, mette le mani addosso, la tua figlia qua. Ma che la situazione, è entrato nello spirito e se non si è natato, di Donato. E' un po' più calmo, è un po' più calmo, è un po' più calmo.